Il notiziario è offerto da Hotel Palazzo Piccolomini, concessionari Alfa Romeo Coar. La nostra città offre come sempre un calendario ricco di eventi e manifestazioni che ci accompagnano per tutta la Settimana Santa, tra queste il concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Siriana alla Chiesa di San Francesco. La Chiesa di San Francesco Grazie a tutti. L'Orchestra Sinfonica Nazionale Siriana fa concerti regolari a Damasco e noi presentiamo un repertorio classico internazionale, più musica scritta da compositori siriani. Qui ci sono alcune cose prese dalla tradizione siriana, trascritte per l'Orchestra Sinfonica oppure proprio brani composti per l'Orchestra Sinfonica. Grazie a tutti. Con il concerto dell'Orchestra Siriana prende avvio la seconda giornata del Festival Città di Orvieto, un festival organizzato in collaborazione con il Teatro dell'Opera di Roma e la Fondazione Cassa di Risparmio. Come sapete il Festival Città di Orvieto avrà la sua conclusione sabato prossimo con il concerto di Pasqua e con il concerto che terrà proprio l'Orchestra e il Coro del Teatro dell'Opera di Roma. Un evento particolare perché è in anteprima il concerto che il Presidente della Repubblica dedicherà al Santo Padre alla Sala Nervi il 5 maggio prossimo. Stessa orchestra, stesso coro, stesso repertorio. Invitiamo non solo la partecipazione a tutta la settimana di eventi musicali e culturali ma soprattutto all'evento conclusivo, a questo concerto del 23 aprile. Stessa orchestra, stesso coro, stesso coro, stesso coro. Il notiziario è stato offerto da Hotel Palazzo Piccolomini, concessionari Alfa Romeo Coar.